Attivazione del turno notturno della Polizia Municipale con l'istituzione di un presidio fisso Interforze in piazza Santa Caterina da Siena, installazione delle telecamere, daspo urbano per chi commette reati nel quartiere, controlli amministrativi serrati su tutte le attività commerciali della zona per verificare il rispetto rigoroso delle norme e soprattutto richiesta della presenza di un contingente dell'esercito per garantire il controllo dell'intera area centrale di Pescara. Sono alcune delle misure contenute nell'ordine del giorno approvato con 19 voti favorevoli della maggioranza, 5 contrari e 4 non votanti dal Consiglio Comunale riunito in sessione straordinaria proprio in piazza Santa Caterina dove come in altre zone, sia centrali che periferiche del capologo adriatico, recentemente si sono registrate aggressioni ed altri fatti di cronaca. Il sindaco Carlo Masci annuncia che entro un anno saranno installate circa 300 telecamere intelligenti e potenziato il corpo della Polizia Municipale. Nel giro di un anno a Pescara avremo un sistema di telecamere intelligenti, circa 300, che controllerà tutta la città dall'ingresso alle zone più sensibili in modo tale che nel momento in cui ci saranno situazioni a rischio saranno segnalate e le forze dell'ordine e la Polizia Municipale potranno intervenire in tempo reale. Poi andremo a fare anche altri interventi molto importanti, per esempio il rafforzamento del corpo della Polizia Municipale attraverso un piano di assunzioni che partirà all'inizio del 2020 e che permetterà di integrare il corpo e portarlo a circa 200 persone perché Pescara è una città che ha bisogno di Polizia Municipale che controlli la città. La sicurezza è una priorità, hanno evidenziato la consigliera Marnella Sclocco che parla a nome dei partiti di centro-sinistra che avevano presentato un ordine del giorno che non è stato approvato dalla Sise Civica e il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini. Peccato ieri non abbiano voluto lavorare sulla convergenza dei due documenti, noi abbiamo dimostrato grande apertura nei confronti di questo centrodestra che amministra la città perché crediamo che i temi della sicurezza non abbiano colore e non debbano avere colore politico. Per noi la sicurezza è certamente telecamere e lavorare con le forze dell'ordine ma è anche altro e molto di più significa investire nelle politiche sociali, significa ristrutturare la città e riconsegnarla ai cittadini in modo che i luoghi possano essere vissuti dall'associazione e dai cittadini e non luoghi di degrado, significa illuminarla, significa fare una serie di azioni trasversali a tutti gli assessorati. Abbiamo chiesto al sindaco di impegnarsi con tempi certi, ci ha risposto che serviranno quattro mesi per finire di completare la progettazione delle telecamere, sei mesi per posizionarle, l'anno prossimo, quindi nel 2020 ci saranno nuovi vigili assunti ma c'è bisogno che si faccia qualcosa subito perché quella della sicurezza per quanto ci riguarda è una vera e propria emergenza e esistono risposte da dover dare immediatamente ai cittadini che ieri ci hanno fatto sentire a gran voce quali sono i bisogni e quante mancanze ci sono state nella nostra città negli anni passati.